Ancora pioggia di fondi ad Atena Lucana dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vertucci con la sua azione finalizzata al rilancio del borgo e al suo sviluppo ha promosso una nuova iniziativa aderendo al bando proposto dal Ministero della Cultura che potendo contare sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha lanciato il programma di interventi denominato Attrattività dei Borghi, un programma finalizzato a favorire la creazione e lo sviluppo di imprese nei piccoli borghi, oltre che per il rilancio turistico delle aree. L'amministrazione comunale atenese guidata dal sindaco Vertucci già in passato si è attivata con importanti progetti per il rilancio del borgo antico, ottenendo anche finanziamenti importanti come il caso del progetto di Archivio Atena. Adesso si è giunta l'ulteriore iniziativa rivolta esclusivamente alle imprese interessate ad investire nel suggestivo borgo, a cui il Ministero della Cultura lo scorso 10 maggio ha riconosciuto le risorse con apposito decreto. In arrivo ad Atena Lucana oltre 1.462.000 euro che saranno assegnate ad un totale di 22 imprese che hanno aderito con i loro progetti all'iniziativa promossa e presentata nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale. 13 delle 22 imprese che hanno ottenuto i fondi dal di Castero guidato dal Ministro San Giuliano hanno ottenuto ben 75.000 euro per la realizzazione dei loro progetti, quindi il massimo della somma prevista e messa a disposizione nell'ambito dei progetti del PNRR. Rilanciare dunque Borghi Antichi e dimostrare che anche nei piccoli centri si può fare impresa e si può puntare su uno sviluppo anche turistico è uno dei principali elementi che hanno spinto l'amministrazione Vertucci ad impegnarsi nell'individuazione di adeguate opportunità per l'ottenimento di fondi, sia dalla parte pubblica e dunque direttamente all'ente comunale, ma anche al privato che decide di condividere con l'amministrazione lo stesso percorso di crescita, sviluppo, valorizzazione, credendo nelle potenzialità offerte da un'area ancora incontaminata e dall'enorme potenziale capace anche di dar vita ad un turismo sostenibile che si sta avviando ad essere sempre più ricercato ed apprezzato. Grande l'orgoglio del sindaco Luigi Vertucci nel poter prendere visione della graduatoria pubblicata sul sito del Ministero della Cultura, anche per la partecipazione che le imprese del territorio hanno riservato all'iniziativa, dimostrando dunque di credere nel valore del piccolo centro valdianese e di condividere l'idea di investire impegno e risorse sul piccolo borgo per guardare al futuro con ottimismo.